grazie intanto dell'invito e un saluto a tutte e a tutti allora io se mi consenti però Antonio volevo fare anche una piccola riflessione sulla questione più generale molto breve visto che mi hai posto anche una domanda specifica cioè su questa questione della ricomposizione il tentativo anche di questa carovana, di queste due carovane importante ma ci sono anche altre situazioni, altre realtà di movimento che stanno cercando stanno facendo questo tentativo, innesimo tentativo perché non è che in questi anni non ci abbiamo provato a mettere insieme le forze io credo che su questo noi dobbiamo fare però delle riflessioni e qui cerco di problematizzare la questione perché per quanto riguarda soprattutto il mondo dei comitati se facciamo eccezione rispetto al movimento Notavano, Grandinabia certe che sono stati anche dei punti di riferimento importanti lo sono tuttora ma hanno una dimensione che supera di gran lunga quella dei comitati territoriali che in genere abbiamo in Italia beh lì, allora se andiamo su questo versante qua un problema c'è perché è vero che questi comitati hanno sono una ricchezza incredibile perché presidiano il territorio da nord a sud fanno battaglie importantissime e spesso anche le vincono perché questo è da ricordarsi che noi qua in Veneto ne abbiamo perse ma ne abbiamo anche vinte di importanti hanno acquisito una quantità di informazioni di competenze notevole che addirittura diciamo spesso sui temi specifici riusciamo a mettere in crisi anche le controparti quando parlo di controparti parlo anche dei grossi gruppi di Eni, di Snam, di Enel, di Era eccetera insomma per cui c'è questa cosa però dall'altro questi gruppi normalmente hanno una dimensione molto ridotta ed è una dimensione che si sta riducendo ancora di più proprio anche a seguito di quello che è stata la pandemia la composizione di questi gruppi spesso è una composizione che da un punto di vista generazionale è come dire dal punto di vista dell'età abbastanza elevata se non elevata e c'è una difficoltà appunto a trasmettere un po' tutto quello che questo ha portato invece a tutta quella componente più giovane che è emersa negli ultimi due o tre anni e che quindi possa in qualche maniera raccogliere questa eredità allora il problema della ricomposizione sta nel fatto che questi gruppi hanno appunto una massa ridotta e non riescono a fare niente di più di quello che è seguire la vertenza che seguono in quel momento perché proprio materialmente non ce la fanno perché tanto seguire le vertenze richiede un grossissimo lavoro e un lavoro continuo ma poi appunto in termini di mobilitazione di cose questo richiede ulteriori energie, ulteriori sforzi perciò io credo che è importante continuare a tenere il filo delle connessioni delle connessioni fra le varie realtà delle connessioni rispetto alle problematiche ma penso che noi dobbiamo trovare degli obiettivi comuni più alti, di carattere più generale come potrebbe essere in questo momento il piano nazionale di PNRR insomma di resilienza e ricostruzione perché su quello diciamo se riusciamo a mettere come abbiamo fatto per esempio nella manifestazione del 23 marzo del 2019 a individuare degli obiettivi comuni a individuare anche dei percorsi però continuativi su cui battere allora lì forse riusciamo veramente a trovare il modo di rimettere insieme le forze e anche di creare un percorso comune che amalgama e che fa fare un salto di qualità a tutti quanti e quindi credo che su questo per esempio anche rispetto alla proposta di Mattias anche a livello Veneto di ritrovarci credo che è una riflessione critica che tende ad evidenziare le problematiche sia quantomeno necessaria come è necessario un passaggio diciamo secondo me di carattere più generale di ragionamento più generale a seguito della pandemia perché è tutto più accentuato ma è evidente a tutti che c'è un salto un salto di fase notevole importante che dobbiamo comprendere bene per andare sulla questione che mi chiedevi il suo specifico hai due minuti Mattia ho due minuti faccio brevemente allora la questione degli inceneritori e delle discariche è paradossale in Veneto perché il Veneto è una delle regioni non in Italia in Europa che ha il più alto tasso di raccolta differenziata e anche di recupero di materia allora la questione è che come succede sul versante energetico c'è un conflitto anche all'interno come dire dell'economia capitalistica per cui chi detiene come dire la vecchia economia i petrolieri da una parte e nel caso dei rifiuti chi detiene i grossi impianti di smaltimento non vuole mollare l'osso ovviamente perché lì intanto c'è una gestione molto controllata molto concentrata e dall'altro c'è un grosso profitto e quindi si crea questo meccanismo per cui nel nostro caso il nuovo piano regionale dei rifiuti lo stanno scrivendo Error lo stanno scrivendo Veritas lo stanno scrivendo le grandi società più o meno partecipate facendo questi grossi impianti che ovviamente determineranno una politica sugli rifiuti che va nella direzione esattamente opposta rispetto a quella che indica la stessa comunità europea con il discorso dell'economia circolare su questo poi si innesta tutto un ragionamento che in Veneto andrebbe approfondito ulteriormente e qua i comitati vicentini sicuramente ne hanno da dire e cioè sul fatto che questi impianti di smaltimento in particolare gli inceneritori non servono solo per i rifiuti urbani ma servono anche per i rifiuti speciali e soprattutto per i rifiuti tossici non te lo dicono all'inizio ma poi dopo come nel caso di Fusina e di Padova ci infilano dentro per esempio i fanghi percolati contaminati dai PFAS perché non si sa più dove metterli quindi la questione è che si aggiunge anche un rischio oltre a quello che è già insito come dire in questo tipo di impianti ma un ulteriore rischio perché lo smaltimento di queste sostanze è come dire le conseguenze sono ignote proprio da un punto di vista scientifico e quindi insomma il tema per noi voglio dire è centrale e su questo stiamo cercando di fare rete ma e chiudo è importante anche capire una cosa che la filiera dei rifiuti il terminale lo smaltimento rappresenta proprio il fatto di tenere la filiera aperta rappresenta quella dinamica consumistica estrativistica e l'ultimo passaggio il chiuderla effettivamente significa in qualche modo non in maniera integrale e totale ma mettere in discussione proprio dinamiche di estrativismo e di consumismo quindi c'è anche un elemento di non volontà di arrivare alla chiusura vera dei cicli alla riduzione del consumo di energie e di materie perché ovviamente questo mette in discussione tutte delle filiere di estrazione di profitto chiaramente di energie di energie di energie di energie Grazie a tutti.